Buongiorno, sono Federico Carozzi e in Lenovo mi occupo dei prodotti professionali. Oggi voglio presentarvi il ThinkPad Elix che rientra in quella gamba di prodotti che noi chiamiamo multimode o due in uno. Quante volte gli utenti business si trovano a dover scegliere tra la potenza e le performance di un ultrabook e la fruibilità di un tablet. Questa cosa può essere facilmente superata senza avere nessun tipo di compromesso scegliendo il ThinkPad Elix. Infatti posso avere un ultrabook dalle dimensioni molto compatte, dal peso poco superiore a un chilo, grazie ai processori di ultima generazione Intel, ai dischi ultraveloci SSD e alla connettività fino ad arrivare alla connettività 4G, ma posso anche allo stesso tempo e in pochissimi secondi, semplicemente premendo un tasto, passare alla modalità tablet. In questo caso la potenza, la performance rimane all'interno dello schermo, quindi ho tutta la performance dell'ultrabook garantita in un formato tablet, tutte le porte sono disponibili direttamente sull'unità principale e posso nel caso anche avere la fruibilità e il vantaggio di avere all'interno della tastiera una seconda batteria che mi permette di avere un'autonomia estesa che va al di là delle 10 ore e che mi garantisce comunque l'unità principale. Nel caso io voglia molto semplicemente tornare a utilizzare il pc in modellità standard, posso semplicemente riagganciarlo sempre in pochissimi secondi e quindi tornare ad avere un prodotto che mi permette praticamente ad avere la modalità ultrabook standard. Questo prodotto che è ovviamente completamente touch, viene fornito insieme al sistema operativo Windows 8.1 Pro e quindi vengono enfatizzate quelle che sono le caratteristiche di sicurezza, integrazione all'interno delle reti aziendali e di sfruttamento dei servizi di cloud. Il Fingpadel X1 è la soluzione ideale per chi vuole avere un prodotto senza scendere a nessun compromesso.